Percorreva la statale 35 in direzione di Milano con un'andatura sospetta. Una gazzella dei carabinieri, credendo fosse ubriaco, lo ha affiancato con il lampeggiante e lo ha scortato fino alla prima uscita dove è stato fermato per un controllo. L'uomo, un 51enne di cinisello balsamo, cuoco, con sbagliati precedenti per furto e detenzione ai fini di spaccio di droga, è risultato sobrio, ma molto innervosito, un comportamento che ha insospettito i militari. Considerati i trascorsi, i carabinieri lo hanno perquisito. Nell'auto c'erano 4 kg di hashish. Il cinquantenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, condotto e trattenuto presso la caserma di Seregno. Processato per direttissima si trova ora agli arresti domiciliari. Sempre nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Desio, in collaborazione con i NAS, hanno controllato diversi esercizi pubblici. Dieci militari impegnati, passati a setaccio un ristorante due bar. In due di questi sono state riscontrate violazioni alla normativa igienica sulla corretta conservazione degli alimenti e sulla pulizia degli ambienti, con sanzioni che superano i 2.000 euro ciascuna. All'interno di un bar, invece, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali e tra di loro sono stati trovati in possesso di hashish. Nei confronti di infine di tre pregiudicati per reati contro il patrimonio, tutti provenienti da fuori provincia, è stato proposto il divieto di ritorno nel comune di Mugio. Infine, sabato sera, i carabinieri di Seviso sono intervenuti allazzati in un cantiere a ridosso dell'autostrada Pedemontana, dove alcuni giovani stavano praticando motocross. Un ragazzo comasco sedicenne, Leonardo Gessaga, si è schiantato contro New Jersey, provocandosi un trauma cranico. Trasportato d'urgenza nel guarda di Milano, si è spento poche ore dopo, sull'episodio Indagini in Corso.